buonasera allora signori sappiamo tutti o meglio penso che già sappiate che con due euro si entra allo stadio sabato purtroppo se si è disoccupati e quindi se si è perso il lavoro si fa il certificato giusto si va a fare il biglietto e con due euro si entra si entra anche con i figli quindi questa è una cosa estremamente importante si può andare allo stadio la teronana sicuramente ha bisogno in questo momento di stimoli ha bisogno di sentirsi vicino il proprio pubblico la teronana sta già lavorando per il prossimo anno cioè per l'anno calcistico 22 23 queste nove partite che a questo punto ci mancano per chiudere questo campionato sono partite importanti sono partite che noi sentiamo molto cerchiamo di far diventare la teronana la cosa giusta buona serata a tutti ci vediamo allo stadio sabato io sarò in panchina